E' stata inaugurata all'interno dei locali del Tecnopolo d'Abruzzo la nuova sede della CLS, Consorzio di Logistica per i Servizi Nazionali, che da dieci anni è operativo nello scallo di Ferroviario di San Lorenzo in Roma, ma sbarca anche in Abruzzo con il progetto Roma è qui. L'occasione è stata utile per illustrare il progetto pensato per l'Abruzzo, un portale commerciale online di prodotti e artigiani. Il portale sfrutta la piattaforma logistica di stoccaggio e consegna di Roma per la commercializzazione al dettaglio di prodotti e servizi delle regioni Abruzzo, ma anche Marche, Umbria e Lazio. Dopo il taglio nel nastro si è svolto un incontro dibattito a cui hanno partecipato le istituzioni locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i produttori e gli edatori del progetto Roma è qui. Ha aperto l'incontro il direttore del Tecnopolo d'Abruzzo, Roberto Romanelli, il quale ha rimarcato il valore della piattaforma logistica che permette agli imprenditori di avere a disposizione una vetrina per vendere direttamente i loro prodotti su Roma, in perfetta sintonia con la mission del Tecnopolo d'Abruzzo, ormai di fatto il polo di aggregazione delle tante aziende candidate alla rinascita del territorio. A tenere a battesimo l'iniziativa anche il vice-sinnaco, nonché assessore al commercio del Comune dell'Aquila, Raffaele Daniele. Il problema più grande dell'Aquila è proprio l'occupazione, ha detto l'assessore. Il commercio era centrale, è importante dunque essere a fianco di tutte le iniziative. Riccardo Cicerone e Daniele Proietti, entrambi giovani aquilani di CTO Saturno Consulting, hanno realizzato il portale Roma è qui. Grazie. Grazie.